Nel finale di Ray Pion, pagato nel 15-4, andiamo a ritrovare il Tommaso Negro nell'Abbia Miss Grazio, il viaggio veloce con la maglia rossa in più posizione. Per l'Abbia Miss Verona andiamo a ritrovare l'Ecofusaria, al secondo posto, la terza posizione per l'Abbia Miss Grazio, che è giro a Gilebona, e il quarto testo è sempre il rai del tigli amici di Grazio, e poi il numero 409, qualificato al percorso, c'è Mattia Pionizza, l'ultima curva, vede, il video di questa gattina di G4, il Tommaso Negro da Temando, c'è un'altra posizione per l'Abbia Miss Grazio, un bel riterno di Vanguilla, bellissimo, e sempre per l'Abbia Miss Grazio, in questa gattina c'è Giorno!